Salve e bentornati. Approfitto di questa breve pausa, trovandomi al momento in Europa, in particolare in Olanda, per porre alcune domande, magari avviare un discorso. Cos'è, o quantomeno, quando voi sentite, negli ultimi anni avete sentito molti discorsi sul tema della cultura, non diciamo della cultura occidentale, ma dell'Europa. Cosa pensate quando qualcuno, parlando della cultura occidentale, il massimo che riesce a fare è quello di tornare a dire, sapete, il dibattito sull'Europa cristiana. Cosa significa questo? Cosa indica questa frase? Al di là della solita gazzarra, cacciara politica che viene fatta sempre intorno a qualunque termine, la polarizzazione estrema, anche in questo caso, loro lo intendono su base religiosa confessionale. Se tu vuoi dire la cultura cristiana, nel senso della certa impostazione, una certa fondazione, dovresti dire quantomeno giudaico-cristiana, o giudaico-greco-cristiana. Ma quello su cui volevo semplicemente fornire, offrire uno spunto di riflessione molto breve, perché purtroppo sono tra impegni, e non si capisce che questo è già un ritiro verso un essere messi all'angolo. Quello che voglio dire è che quando uno parla di cultura europea, parla anche sicuramente di una base giudaico-greco-cristiana, ma quello di cui dovrebbe davvero parlare, e non lo fanno, non lo fa quasi nessuno, almeno io non l'ho trovato questo, è il parlare della cultura occidentale come il fondamento dell'individuo, il fondamento di un concetto di libertà molto particolare, che non si estende soltanto all'Europa, ma è un concetto che pertiene alla cultura occidentale in sé. Life, liberty and the pursuit of happiness. Questo è Thomas Jefferson nel 1776 negli Stati Uniti. Parliamo di valori fondamentali, come il valore dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, della dignità dell'individuo, di un riprendere, purtroppo, ormai sappiamo sconvolto, del concetto di democrazia. Ma perché questi discorsi non si fanno? Non si fanno nelle accademie, non si fanno nei media, non si fanno nella politica, anzi la politica tende a polarizzare, per confondere. Però vedete a me quello che preme qui evidenziare, quello che secondo me è fondamentale da ricordare, fondamentale tornare a questi punti, per non farsi mettere negli angoli da quelle narrative costruite proprio per stravolgere l'individuo, quell'individuo che è fondazione del concetto di Occidente. Noi non possiamo dimenticare che l'Occidente significa tante cose. Chiaramente tutto quello che sta succedendo e succede è politico, fondamentalmente radicalmente politico. E anche qui dovrebbe tornare il discorso sul concetto di individuo greco, concetto di individuo nell'umanismo o nell'umanesimo, e dire che di fronte, anche di fronte alle narrative che vogliono sconvolgere l'individuo, il cittadino, che per tutta una serie di ragioni che non possiamo chiaramente affrontare in pochi minuti, ma che nel canale si sono affrontate per decenni, è quello di rispondere preferirei di no. È quello di andare a prendere un libro, di andare a studiare queste cose, di tornare alla parola e al discorso. Perché, signore e signori, qui con l'andazzo che questa situazione sta prendendo e con quello che appunto si vede intorno sul decadimento logico, culturale e intellettuale, il rischio che stiamo correndo è grave. È vero che tutte le civiltà hanno delle loro fasi ascendenti e discendenti, ma nessun'altra civiltà aveva le armi atomiche. dunque, continuando a scherzare, continuando ad obbedire, continuando ad essere bravi e intelligenti perché si obbedisce, rischia di finire male. Come diceva Einstein, se l'umanità è nata da un atto di disobbedienza, si riferisce al mito del Genesi, rischia di terminare con un atto di obbedienza. Grazie.